Via! E' stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unitamente a Milo Ducanovic, presidente del Montenegro, ad inaugurare il primo elettrodotto Italia Montenegro, realizzato tra le sottostazioni di Cepagatti e l'Astva, il comune di Cotor, e il più lungo collegamento sottomarino in alta tensione mai realizzato da Terna. I lavori per la posa dei cavi dell'Opera, avviati tra il 2015 e il 2017, si snodano per 445 km con un investimento totale di circa 1,1 miliardi di euro. L'impianto, in corrente continua, consentirà ai due paesi di scambiare elettricità in maniera bidirezionale ed entrerà in funzione entro la fine dell'anno. Questo primo impianto avrà inizialmente una potenza di 600 MW, pronto a raggiungere i 1200 MW nei prossimi anni, quando sarà realizzato il secondo cavo. Sono particolarmente lieto della nostra comune presenza oggi per inaugurare il cavo di interconnessione elettrica tra Cepagatti e l'Astva, che unisce Montenegro e Italia. La sua realizzazione ha richiesto un impegno di oltre dieci anni e rappresenta un investimento di grande rilevanza e uno sforzo di ingegneria complessa e ad alto contenuto tecnologico. Questa infrastruttura ha un forte valore strategico di livello europeo, rappresenta infatti il primo vero ponte elettrico tra l'Unione Europea e i Balcani. L'elettrodotto Montenegro-Italia si inserisce pienamente in questo quadro, favorendo la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali alle strategie europee e il progressivo allineamento da parte loro agli standard comunitari, anche in ambito energetico e climatico.